Siamo con Fiodor Martino del Derby County, partita inizialmente combattuta, poi però siete riusciti a sbloccarla e a portarla avanti e vincendo poi 5-2. Sì, direi che abbiamo giusto male. Io direi che forse abbiamo preso un po' troppo la leggera, forse c'erano due inserimenti nuovi questa settimana, quindi forse troppi piccoli errori, però è bene che abbiamo vinto. Esatto, quindi tre punti che sicuramente servono alla classifica. Quindi si spera che la prossima però già ci sia qualche aggiustamento. Sì, bisogna giocare meglio. Sì, credo che io vedo il calcio in modo dove la palla debba essere sempre passata, riniziare le azioni sempre e ogni tanto questo viene fatto, ogni tanto si fanno degli errori e quindi non sempre vengono bene. Però oggi diciamo che l'altra squadra, non avendo forse il portiere, anche questo ci ha aiutato, ma abbiamo anche sbagliato tante palle e gol che non deve accadere perché poi se la partita è più complicata e sbagliare tutti questi gol, succede quello che abbiamo fatto l'altra volta con il Gremio che sbagliando qualche cosa poi abbiamo perso 8-0. Perfetto, io la ringrazio e le faccio un in bocca al lupo. Grazie, arrivederci.